Sempre qui rintanato nel mio studiolo in tempi di quarantena forzata e di coronavirus, parliamo un po' degli effetti positivi, ne ho già parlato tutti, ne ho parlato anche in qualche altro in video, ma poi i dati vengono aggiornati, quindi secondo me conviene anche poi ogni tanto riparlarne e riaggiornarci, perché chiaramente settimanalmente questi dati vengono riaggiornati. Poi adesso c'è anche la questione nuova del fatto che prima guardavamo solo i dati della pianura padana, adesso poi cominciano ad arrivare i dati anche dal resto del mondo, dove stanno cominciando a fermare il traffico, a chiudere la gente in casa, quindi cominciamo ad avere dei responsi anche in altri stati, in altre nazioni. Il coronavirus ha drasticamente ridotto l'inquinamento in tutto il mondo, qui parliamo di Stati Uniti, cominciamo a parlare di Stati Uniti perché anche lì stanno cominciando ad applicare norme restrittive, la circolazione delle persone, la circolazione dei veicoli, non sono ancora chiusi come da noi, ma insomma abbastanza. Alcuni giorni fa riportammo il recente studio di François Gémen, direttore del The Hugo Observatory, che affermava di un numero elevatissimo di vite salvate grazie alla riduzione dell'inquinamento provocato dalle restrizioni della circolazione e alla produzione causa coronavirus. Dall'altra parte dell'Atlantico arriverebbero adesso nuove conferme. In Rix, compagnia che studia i dati di molte aree, ha riportato il fatto che il volume del traffico negli Stati Uniti si è ridotto del 30% a marzo, quindi non è stato bloccato completamente come qua, ma si è ridotto parecchio. La scorsa settimana è invece crollato del 50% nella città di San Francisco. La prima a ricevere ordinanze restrittive, in California, New York e nel Michigan, le zone più congestionate a livello stradale negli USA, gli ingorghi sono calati del 37% e ciò è testimoniato da una Manhattan completamente deserta, poi ci sono le foto, vabbè. Tutto questo ha portato a un enorme ridimensionamento delle emissioni cittadine per un purtroppo breve miglioramento delle condizioni dell'area, però forse il più grande cambiamento è avvenuto a Wuhan, epicentro della pandemia di Sars-CoV-2. La città ospita circa 11 milioni di persone ed è un polo commerciale fondamentale per la Cina, stando a quanto riportato dalla NASA i livelli di diossido di azoto in tutta l'area orientale e centrale, il diossido di azoto è uno degli elementi più nocivi per la nostra salute, il centrale del paese è sceso di un livello compreso tra il 10 e il 30%, in Italia poi il contrasto è ancora più evidente con il 60% di traffico stradale in meno. Poi vabbè, l'articolo va avanti, tanto poi come sempre ve lo linko in descrizione così ve lo potete leggere. A questo articolo ne vado a sommare un altro che invece riguarda noi, tratto direttamente dal sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pianura padana, riduzione fino al 50% di inquinanti in atmosfera per misure introdotte per fronteggiare coronavirus. Il Ministro Costa, quindi parliamo del Ministro Costa, non parliamo dell'ultimo dei complottisti o controcomplottisti whatsappiani. Il Ministro Costa, usciti da emergenza occorrerà puntare a nuove forme, mobilità e sviluppo sostenibile. E qui gli amanti delle auto vecchie senza catalizzatore delle macchine scatalizzate. Poi farò un video su chi scatalizza le macchine e crea danni ambientali ai nostri polmoni molto considerevoli, perché qua sembra che se ne siano dimenticati tutti a cosa servono i catalizzatori, come funzionano e che tipo di benzina bruciamo dentro nelle macchine catalizzate. Adesso vado a raccogliere un po' di informazioni e poi farò un video, spero abbastanza dettagliato. Mi ci vuole un po' più di tempo per strutturarlo. Quindi adesso sto per leggere una notizia che farà tremare gli appassionati indefessi e incrollabili delle vecchie auto a benzina senza catalizzatore o dei diselloni fumosi. Allora, questo è un articolo dell'altro ieri. Il livello di biossido di azoto, uno dei principali inquinanti dell'atmosfera nelle regioni della pianura padana, ha subito nelle ultime settimane una forte riduzione, fino al 50%, a seguito delle misure introdotte dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. È quanto rivela uno studio elaborato da un team di esperti SNPA, Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, realizzato grazie all'utilizzo del programma Copernicus, di cui vi avevo già parlato anche in un altro video, e di sistemi modellistici a scala nazionale e regionale sul territorio. In particolare sono stati analizzati gli effetti sulla qualità dell'aria e delle misure di limitazione della mobilità adottate nelle regioni del nord Italia già a partire dal 23 febbraio, poi estesa a tutto il territorio nazionale a partire dall'11 marzo, quindi queste sono le date ufficiali. La forte riduzione degli inquinanti dell'atmosfera nelle regioni del bacino padano, in particolare del biossido di azoto, testimonia l'esigenza di puntare più presto, non appena saremmo usciti da questo momento di serie emergenza nazionale, su una nuova normalità, con forme di mobilità il più possibile sostenibile e che riducano drasticamente l'impatto sull'ambiente, afferma il ministro Sergio Costa. Già da tempo ormai sappiamo, e i cambiamenti climatici ce lo ricordano in ogni area del pianeta, anche se qua gli incrollabili e i non convincibili continuano a dire che non esistono, che la nostra priorità è costruire un modello di sviluppo ambientalmente sostenibile, capace di invertire in maniera drastica e immediata l'abitudine al sovrainquinamento, al sovraconsumo e sfruttamento delle risorse naturali. È un modo di vivere non più accettabile e tollerabile. Io non capisco spesso i detrattori, cioè sembra che la gente di respirare aree più pulita, più sana e di vivere in un ambiente più sano, sembra che faccia veramente schifo, cioè sembra che la gente non interessi, perché non si sentono coinvolti nell'immediato. Sì, magari sviluppi una patologia ma muori fra vent'anni, vabbè ho capito, muori fra vent'anni, ma magari potevi camparne trenta o venticinque, o magari non morire per quella cosa lì, semplicemente, perché poi morire per malattie applicate al sistema respiratorio non è una bella morte, tra l'altro. Adesso io tocco i gioiali di famiglia, tanto che lo dico, quindi, cioè, sembra che alla gente non gliene freghi mai niente, sembra che non gli interessi nulla, cioè pur di non cambiare un'abitudine, pur di non cambiare un'idea di acquisto su un veicolo piuttosto che un altro, sembra che alla gente non gli interessi mai, cioè, muori rosi, non me ne frega niente, respiro merda tutto il giorno, chi se ne importa, non me ne frega nulla. Io penso che ci abbiamo tutti da guadagnarci, cioè, nel senso, anche quelli che non credono a questi dati, quelli che non gliene frega niente, ci guadagnano anche loro, quindi cominciamo ad abituarci all'idea che le cose devono cambiare e probabilmente il coronavirus, che lascerà segni indelebili nelle vite di tutti noi, probabilmente anche questo sarà un grande cambiamento che ci lascerà in eredità questa emergenza. So che molti non sono d'accordo, ho già visto video di altri noti youtuber che sfanculano queste teorie, queste cose, io invece credo che siano molto vere, molto reali, molto concrete, quindi staremo a vedere se se saremo veramente in grado, al termine di questa emergenza, se saremo veramente in grado di prendere una direzione finalmente diversa, molto più accettabile, molto più sostenibile e anche molto più logica, perché arrivati a questo punto, questi sono gli unici termini che mi vengono da poter usare. Ce la faremo, viva le auto elettriche, viva la mobilità sostenibile, ce la faremo.